Si parla di matrimoni sulla spiaggia e la prima coppia a sposarsi sulla spiaggia di Pescara sarà giocatore del Pescara Calcio a 5, fresco di scudetto Riccardo Caputo. Riccardo, come mai questa decisione? Lei c'era il sogno di sposarsi in spiaggia, stava vedendo di andare in Caraibi, poi si è messo a cercare su Google e ha visto che si fa anche a Pescara. Quindi abbiamo già come abito qui, gioco con il Pescara, abbiamo scelto di sposarsi proprio qua. Una grande soddisfazione quella dello scudetto e tra qualche giorno una ancora più grande, quella del Fatiti Così. Sì, direi che è una bella nata, il scudetto insieme al matrimonio, è proprio due belli traguardi. La signora preferiva sposarsi ai Caraibi, però Pescara ha anche una bella spiaggia. Preferì anche in Pescara. E' soddisfatto per questa scelta di Pescara sia da un punto di vista sportivo che anche familiare? Sì, sì, pure perché io ci ho pescato dentro il cuore, perché ho giocato qua già tanti anni fa e quindi mi fa piacere di avere proprio l'opportunità di sposarmi qua. Come mai la decisione di sposarvi proprio sulla spiaggia? Perché era un sogno suo, quindi abbiamo svelato questo sogno. Grazie. Grazie. Grazie.